Una società la cui religione è il credito, continuiamo a prendere sul serio questa tese di Benjamin che secondo me è esatta, allora una società la cui religione, quindi la cui pistis è il credito, una società che crede soltanto nel credito, crede nel suo credito, è condannata a vivere a credito. Uno studioso, Roberto Cursa, ha illustrato la trasformazione del capitalismo ottocentesco che era ancora fondato sull'idea dell'assorbibilità e quindi sulla diffidenza rispetto al credito, la sua trasformazione nel capitalismo finanziario contemporaneo. Per il capitale privato ottocentesco, con il suo proprietario ai personaggi, con i relativi clan familiari, valevano ancora i principi della rispettabilità e della solvenza, alla luce dei quali il sempre crescente ricorso al credito appariva quasi come una cosa oscena, anzi come un segno dell'inizio della fine. La letteratura dal primizio dell'epoca è piena di storie in cui grandi casate vanno in rovina a causa del fatto che ricorrono il credito delle banche. In alcuni passi dei Bud e Brocke, ricordate, Thomas Mann ne ha fatto addirittura di questo un tema da prega notte, i Bud e Brocke decadono dal momento che cominciano a ricorrere al credito, che è una cosa che non si fa. giusto. Naturalmente il capitale produttivo di interessi è sempre esistito ed era fin dall'inizio indispensabile per il sistema che si stava formando, ma non aveva ancora una parte così decisiva della riproduzione capitalista complessiva. Continuo a citare questo. Gli affari del capitale fittizio, cosiddetto finanziario pubblico, erano considerati tipici di un ambiente di broglioni e di gente disonesta al margine del capitalismo vero e proprio. Ancora Henry Ford ha rifiutato a lungo il ricorso al credito bancario, ostinandosi a voler finanziare i suoi investimenti solo con il proprio capitale. Vedete qui la differenza immensa. Adesso non c'è nessuna industria, nessun capitalista, ma nessuno che non abbia bisogno di cui il capitale aziendale non si è basso almeno del 50% di credito bancario. Quindi questa concezione agli alcali si è completamente dissolta, il capitale aziendale coge ricorso in misura crescente al capitale monetario, preso in prestito dal sistema bancario, il credito, questa pistis. Sapete voi che è la stanza più saputa della crisi che c'è stata, ma questa crisi economica non è un programma crisi, è stata generata dal fatto che questi crediti venivano rivenduti subito da un po' l'altro, da un po' l'altro, da un po' l'altro, da un po' l'altro, indipendentemente dalla loro realizzabilità, perché non c'è la loro realizzabilità, no? Perché il credito va aumentato. Ecco, questo significa però che le aziende per poter continuare a produrre devono per così dire ipotecare in anticipo quantità sempre maggiore di lavoro e produzione futura. Il capitale produttore di merce si alimenta fittiziamente del proprio futuro. La religione capitalista, correntemente alle tesi di Venemi, vive di un continuo infatti indebitamento, che non può né deve essere estinto. Però, come sapete, non sono soltanto le aziende che vivono in questo senso solo a figli di pura fede, no? A credito, ma come sapete purtroppo anche in misura crescente di individui, di famiglie, no? Che vivono in maniera progressivamente crescente, e che quindi anche ormai gli individui e le famiglie sono religiosamente impegnati in questo continuo e generalizzato atto di fede sul futuro. E la banca, ripeto, è il sommo sacerdote che amministra ai fedeli l'unico sacramento della religione capitalista, questo credito-dito. È l'unico sacramento, non ce n'è altro, no? Il sacramento qui non è una metafora. Infatti, io spesso mi chiedo, ma come sia possibile che la gente consegui così peracemente oggi la sua fede in questa religione? Perché voi, spero che sia chiaro, basterebbe che la gente cessasse di credere in questo sistema credito e tutto crollerebbe di colpo. Se nessuno credesse più al credito, quindi se nessuno avesse più fiducia del fatto che il credito è una qualcosa di… anzi, l'unica cosa reale, l'unica usilia, il capitalismo crollerebbe immediatamente. appunto per questa religione comunque non avrebbe più questa sua base. Secondo me ci scomincio ad intravedere dei segni di un ateismo incipiente in questa religione. Ci sono dei segni in cui la gente non è proprio così convinta che deve aver fiducia all'infinito in questo credito che le banche amministrano. continuiamo un po' a continuare in questo tentativo di estendere professionalmente l'anteismo in Italia. Quattro anni prima della decisione di Nixon di abolire la convertibilità, Guidedor pubblica il suo celebre libro La società dello spettacolo. Sapete, la tesi centrale del libro era che il capitalismo, nella sua fase estrema, si presenta con un'immensa accumulazione di immagini in cui tutto ciò che era direttamente usato e vissuto si allontana in una rappresentazione. Nel punto in cui, secondo Debord, la mercificazione raggiunge il suo pulmine, non soltanto ogni valore d'uso scompare, ma si trasforma anche nella natura stessa del denaro. Esso non è più semplicemente l'equivalente generale estratto di tutte le merci in sé dotati quindi ancora di un qualche valore d'uso, cito sempre, lo spettacolo è il denaro che si può per così dire soltanto contemplare, poiché in esso la totalità dell'uso si è scambiata contro la totalità della rappresentazione a strada. Finicitazione. E non è chiaro, anche se Debord lo dice con chiarezza, che un sinile del denaro è una merce assoluta che non può riferirsi a una quantità concreta di metà perché in questo caso ha suscitato il spettacolo, quindi quattro anni prima della decisione di Nixon non fa che profetizzare qualcosa che non poteva che avvenire. Ecco, il passo ulteriore che volevo fare e che Debord accenna è che secondo Debord appunto a questa trasformazione del denaro corrisponde necessariamente anche una trasformazione del linguaggio. Linguaggio che non ha più nulla ora da comunicare e si presenta, dice Debord, con una comunicazione dell'incomunicabile. Cosa vuol dire? Vuol dire al denaro come pura merce corrisponde adesso un linguaggio il cui in esso col mondo si è spezzato. Linguaggio e cultura, secondo Debord, separati nei media e nella pubblicità diventano la merce vedetta della società spettacolare che comincia a caparrare per sé una parte crescente infatti del prodotto nazionale. In questo modo è la stessa natura linguistica e comunicativa dell'uomo che si trova per così dire espropriata dallo spettacolo. Ciò che impedisce la comunicazione è il suo assolutizzarsi secondo Debord in una sfera separata in cui non vi è più nulla da comunicare se non la comunicazione stessa. In una società spettacolare per così dire gli uomini sono separati da ciò che dovrebbero vivere. c'è un liberi comunicazione che non comunica nulla. Se lì fosse, insomma si era sempre un po' pensato che ci fosse una somiglianza tra linguaggio e denaro è sempre più un adagio viettiano che ripete l'adagio latino verba valente sicutumine cioè le parole sono come dei denari come un patrimonio del senso comune. Però se proviamo a prendere sul serio questa relazione tra denaro e parola allora appunto forse si rivela anche lui come qualcosa di più che un'analogia, una metafora. Come il denaro si riferisce alle cose costituendole come merci rendendole quindi scambiabili e commerciabili così il linguaggio si riferisce alle cose rendendole di cibi e comunicabili. Come per secoli ciò che permetteva al denaro di svolgere la sua funzione di equivalente universale di valore di tutte le merci era la sua relazione con loro così ciò che garantiva la capacità comunicativa del linguaggio era l'intenzione significativa, la semantica, il suo riferimento effettivo ma le cose, come il denaro si riferiva a loro è scontato che il linguaggio si deve riferire a cose cioè il nesso semantico con le cose che in fondo è sempre presente nella mente di chi parla e in certo senso corrisponde alla base aura della moneta questo è tanto vero che i teorici medievali dicevano appunto che abbiamo messo fondamentale tra il servo e la res tra il linguaggio della cosa e un grande canonista del XIII secolo, Alfredo di Trani dice addirittura in termini giuridici da giurista la lingua in questo senso è rea lingua rea nel senso che è imbutabile il suo messo con le cose la lingua si fa carico di una relazione con le cose che la rende positiva rea responsabile se questo messo significante deve meno il linguaggio allora letteralmente non dice nulla cito sempre questo canonista il significato del riferimento alla realtà garantisce la funzione comunicante della lingua esattamente come il riferimento all'oro assicurava la capacità del denaro di scambiarsi con tutte le cose e il linguaggio è la logica che prega questa connessione tra linguaggio e mondo così come il gold exchange standard riprendeva la connessione tra denaro e base acqua ecco infatti le critiche naturalmente ci sono state molte critiche come sapete a questo distacco della moneta dell'oro questa nullificazione delle garanzie implici con questo distacco che poi in fondo non sono neanche se sono così giuste comunque queste critiche in genere erano dirette proprio proprio quel fatto sul fatto che il denaro che è il medio che rende possibile lo scambio non può essere esso stesso scambiato dire oggetto di scambio vercificato il denaro che misura le merci non può diventare esso stesso una merce allo stesso modo il linguaggio che rende comunicabili le cose non può diventare esso stesso una cosa oggetto a sua volta di uno scambio il medio della comunicazione non può essere esso stesso accaparrato e ricomunicato separato dalle cose il linguaggio comunica nulla e celebra in questo modo il suo figlio di trionfo sul mondo distaccato dall'oro il denaro esibisce il proprio nulla come misura insieme a merce assoluta il linguaggio è il valore spettacolare e supremo perché rivela il nulla di tutte le cose il denaro è la merce suprema perché mostra in ultima analisi la nullità di tutte le merci continuo in questi video spalle di sviluppare la tesi beniamineale del capitalismo come religione perché infatti credo che questa analogia tra capitalismo e religione e insieme alla sua relazione parassitaria che vengono in afferma col cristianesimo va anche in altri ambiti anche al di fuori della sfera economica innanzitutto rispetto al tempo e alla storia il capitalismo non ha alcun telos non ha alcun fine c'è un punto finale il capitalismo il capitalismo è essenzialmente infinito interminabile e tuttavia incessantemente in preda a una crisi sempre in atto di finire ma alcuna fine basta sempre in crisi sempre in atto di finire ecco però anche in questo ecco in questa analogia che volevo segnalare anche in questo la religione capitalista attesta la sua relazione parassitaria col cristianesimo c'è questo straordinario individuo anche teologo critico della modernità che è Ivan Illich a un certo punto in una bellissima intervista che ha una specie di testamento spirituale che la mia città David Kelly gli chiede se il nostro mondo secondo lui è un mondo post cristiano come sembrerebbe perché sembrerebbe così Ivan Illich invece risponde con assoluta certezza il nostro mondo non è un mondo post cristiano anzi è il mondo più esplicitamente cristiano che sia mai esistito perché un mondo apocalittico sapete che la filosofia cristiana della storia si fonda sul punto essenziale cioè che la storia della santezza la storia dell'umanità è essenzialmente finita dovrà assolutamente finire a un certo punto che coincide con il giudizio universale la santezza e la relazione però appunto in questo tempo storico essenzialmente finito secondo la storia del cristianesimo per così dire l'evento messianico apre un altro tempo che era logico in cui ogni istante si mantiene in relazione immediata con la fine fa esperienza come si può dire non tanto della fine del tempo ma di un tempo della fine anche il tempo del cristiano che in relazione a questa fine sta sempre per finire ecco torniamo un po' adesso questa tesi di ilice che il nostro tempo sia un tempo apocalittico voi sapete che i preti non ne parlano assolutamente più della fine del mondo come è stato giustamente detto la chiesa ha chiuso lo sportello escatologico non saprete mai credo che ne parla più delle fine del mondo del giudizio universale è un argomento chiuso però la chiesa quando il momento della chiesa ha cessato di parlarne noi vediamo oggi invece che sono soprattutto gli scienziati i laici gli esperti trasformati in profeti apocalittici che non fanno che annunciarci la fine imminente della vita sulla terra la catastrofe imminente di tutto la fine della vita sulla terra questo è un principio cristiano essenziale e in ogni ambito la religione capitalista proclama uno stato di crisi permanente crisi come sapete significa un giudizio finale credo uno stato di eccessione di un momento normale diciamo però l'escatologia della religione capitalista a differenza di quella della religione cristiana c'è una grande differenza dopo l'analogia è un'escatologia bianca perché non c'è fine non può venire non c'è elezione non c'è salvezza naturalmente c'è una distruzione totale ma non c'è nulla come infatti non può avere una fine ed è per questo sempre in alto definire così il capitalismo non conosce un principio è intimamente nel senso letterale della parola anarchico significa senza archè senza principio e tuttavia l'analogia però è questo sempre in atto di ricominciare di qui la consustanzialità tra capitalismo e innovazione sapete la grande e la bella definizione che Schumpet è quella del capitalismo che il capitalismo è essenzialmente legato all'innovazione cioè il capitalismo senza innovazione è sempre in atto di ricominciare come non può finire deve sempre ricominciare che è sempre in crisi quindi l'anarchia del capitalismo coincide con il suo bisogno incessante di innovazione però anche qui il capitalismo mostra la sua relazione parodica insomma la sua stretta connessione con il dogma cristiano che cos'è infatti l'eternità fenomeno dispositivo che permette di conciliare l'assenza in Dio di ogni archè come dicono la nascita interna insieme storica di Cristo l'anarchia divina politico vera divina e vorrei concludere questo discorso proprio aggiungendo facendo qualche riflessione ulteriore sulla stretta relazione tra capitalismo e anarchia se avete visto il salò di Pasolini ricorderete la frase pronunciata da uno dei quattro cederati chiusi nella una specie di paragonia del castello di Santo uno di loro dice la sola vera anarchia è l'anarchia del potere nello stesso senso molti anni prima Benjamin aveva scritto cito nulla è così anarchico come l'ordine borghese ecco ancora una volta io credo che questo suggerimento di Pasolini e di Benjamin vada presa sul serio Benjamin e Pasolini colgono un carattere essenziale del capitalismo o della religione capitalista se volete che è forse il potere più anarchico che sia mai esistito nel senso letterale questo non può avere alcun archè nessun fondamento nessuna inglesione non ci può essere un archè del capitalismo però anche in questo caso la religione capitalista mostra la sua parassitaria dipendenza o relazione con la teologia cristiana e c'è un punto secondo me molto singolare molto interessante perché quello che funziona come paradigma della anarchia capitalista è l'anarchia di Cristo quindi la cristologia forse qualcuno di voi saprà si ricorderà che tra il IV e il VI secolo la chiesa soprattutto quello orientale ma anche quello cimentale fu profondamente sconvolta divisa dalla grande controversia sull'arianesimo non potete immaginare quanto l'importanza che per più di due secoli questa disputa questa lotta in cui l'imperatore ha implicato perché l'imperatore ha iniziato da una parte di Ario poi invece va dalla parte dei padri contra di Ario ci furono circa mille persone accecate per Cristo e un numero di morti se conta decine di migliaia almeno cinque grandi concili su questo problema qual era il problema? qual era il problema che divideva Ario dall'arresto della chiesa? tanto Ario che i suoi avversari erano concordi nell'affermare ovviamente che il figlio Cristo è stato generato dal padre e che questa generazione era la formula canonica è avvenuta prima dei tempi eterni quindi da sempre Cristo è stato generato da sempre dal padre però qual era la piccola differenza che Ario introduceva? Ario dice sì è vero il figlio in questo senso è da sempre generato quindi è coeterno al padre è stato generato sempre con il padre però questo è il punto che lo tenevo a precisare mentre il padre è veramente assolutamente anarchico anarchos cioè non ha nessun principio nel fondamento il figlio ha la sua archè nel padre quindi non è anarchico come il padre questo è il nocciolo diciamo il muglio di questa immensa disputa che per due secoli ha fatto scannare i cristiani tra loro era se Cristo il figlio è anarchico o no se ha un archè in fondamento o no come sapete tutto prevalse l'opinione degli avversari di Ario l'imperatore Costanzo nel 343 del domenico decisivo con Assisi con Ciba serbica in cui fu affermato con chiarezza che anche il figlio è anarchico come il padre e come tale cito egli regna assolutamente anarchicamente e infinitamente pantote anarchos cai adeutetus quindi tutto il nocciolo di questa la posta in gioco di questa grande misura è se il figlio o se Cristo è anarchico perché questo punto mi interessa al di là delle sottigliezze dei fattini perché chi è il figlio il figlio non è altro che la parola è l'azione del padre anzi il figlio come sapete è il principale autore dell'economia della salvezza è il centro del documento trinitario e cos'è l'economia della salvezza? è il governo divino del mondo ai fini della salvezza dell'umanità la gestione la gestione della storia umana l'economia come sapete come anche oggi non significa altro che il management la gestione ecco però allora se il figlio non è altro che questo se il principale autore dell'economia della salvezza quindi del governo divino del mondo è anarchico è questo punto decisivo questo significa quindi che il governo divino del mondo il principale autore dell'economia dell'economia della salvezza è un'economia anarchica informata se non si intende questa originaria vocazione anarchica della cristologia non è possibile comprendere né il successivo sviluppo storico della teologia cristiana con la sua latente deriva antichologica vi sapete che a un certo punto se si spinge cristo contro i padri sia una specie di assoluto anarchismo quasi adio però non si capisce secondo me nemmeno la storia della filosofia della società della politica occidentale con la loro cesura fra ontologia e prassi fra esseri e agire e la loro come seguente enfasi sulla volontà e la libertà perché che cristo è anarchico significa in ultima stanza che nell'occidente moderno non solo il linguaggio ma anche la prassi e l'economia non hanno fondamento nell'essere cioè questa se si devesse fare una grande cesura che cos'è che veramente distingue il mondo antico il pensiero antico dal pensiero cristiano è proprio questo che per un greco per un ancora per un romano almeno fino alla stoa la prassi ma le azioni degli uomini sono fondate nel loro natura nel loro essere se un uomo è in un certo modo la sua azione sarà in un'altra quindi la prassi umana è fondata nella natura e nell'essere dell'uomo ecco invece la grande novità del cristianesimo una rottura assoluta tra essere e massi l'azione umana non ha fondamento dell'essere è anarchica e questo si scrive dicendo che è libera sapete che tutti gli storici nel pensiero antico le prime cose quando ho lavorato sul concetto di volontà e libertà e gli antichi non hanno il concetto nostro di volontà di soggetto di nuovo però non esiste c'è appunto c'è una specie di necessità che scaturisce dall'essere invece la teologia del cristiano appunto scopre scopre la libertà scopre la volontà soprattutto e la scopre perché? perché appunto Cristo è anarchico perché il governo divino del mondo non ha arche è anarchico ecco comprendiamo anche ora meglio perché la religione capitalista e le filosofie ad essa subalterne hanno tanto bisogno di parlare sempre di volontà e di libertà perché io ti riesco a parlare tanto di libertà libertà e volontà significano semplicemente che essere e agire ontologia e prassi che nel mondo antico adesso erano strettamente congiunti anzi inseparabili ora invece divergono separati l'azione umana va per la sua strada è libera non è più fondata nell'essere libera cioè come sapete non ha i caratteri dove la scienza dov'era condannata al caso di parlare ecco fermo qui vorrei chiudere qui la mia breve questa breve archeologia della regione capitalista non farò una conclusione perché sono convinto che nella filosofia come nell'arte non possiamo mai concludere nulla ma si può concludere un'opera possiamo solo abbandonarla come scelta Giacomiti e dei suoi guardi come scelta io lo definisco di abbandono abbandono questa interrompo questa analisi però se c'è una cosa che vorrei un po' affidare alla vostra riflessione questo è proprio questo problema dell'anarchia che ho cercato di evocare alla fine contro questa anarchia del capitale della regione capitalista io ovviamente non intendo affatto invocare un ritorno a un solito fondamento nell'essere anche se l'abbiamo avuto forse l'abbiamo avuto mi sembra che abbiamo perduto o almeno abbiamo dimenticato l'accesso adesso credo però invece di questo sono abbastanza convinto che una lucida comprensione nella profonda anarchia della società in cui viviamo è il solo modo corretto di porre il problema del potere oggi e insieme eventualmente quello di affacciare anche quest'altro tema di che cosa potrebbe essere invece una vera anarchia è un'altra anarchia adesso è possibile pensarlo mi sembra che appunto un tale pensiero dell'anarchia di un'altra anarchia diventa possibile anzi non sia altro che ciò che diventa possibile solo nel punto in cui afferriamo con lucidità l'anarchia del potere della società in cui viviamo capire bene che noi viviamo una società anarchica forse è il solo modo di poter pensare in modo un po' più serio e non così generica per l'anarchia vedete che qui per così dire costruzione e distruzione coincidono senza desideri adesso sono assolutamente convinto che in filosofia nel pensiero non si può assolutamente distinguere una pars destruens dalla pars construens il momento distruttivo è costruttivo e il momento costruttivo è distruttivo quindi costruzione e distruzione coincidono senza resibili ma per concludere citando delle parole di Michel Foucault quello che otteniamo così diceva Foucault non è nulla di più è nulla di meno però anche dell'aprirsi di uno spazio in cui pensare diventa nuovamente così